Lo scorso 25 febbraio è scaduto il termine e sono 194.077 i candidati in Sicilia alla conquista di uno dei 1.170 posti di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla regione siciliana. Il battezzato concorsone rischia adesso il naufraggio, sì perché ad agitare le acque il sindacato Cobas Codir che ha presentato un ricorso al TAR sostenendo che il concorso sia illegittimo perché disobbedisce alla normativa che assegna priorità alla riclassificazione del personale già impiegato alla regione e poi alle nuove assunzioni. Ebbene l'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto ha rassicurato i concorrenti. Nessun intoppo si procede. Tuttavia adesso il ricorso sindacale è stato iscritto a ruolo ed è stata formulata all'istanza per la fissazione della prima udienza. Pertanto si procede altrettanto ma controvento nella direzione contraria. Il Cobas Codir che è il sindacato più rappresentativo dei dipendenti della regione commenta L'unica certezza al momento è l'incasso realizzato dalla regione di 2 milioni di euro sborsati dai quasi 200 mila ignari partecipanti. Non è un fulmine a Cielo Sereno. Più volte nei mesi scorsi abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili per scongiurare l'impugnativa dei concorsi causata da diverse violazioni, tutte segnalate a danno dei lavoratori regionali. Ma il governo regionale non ha proceduto nella direzione richiesta dal Cobas Codir determinando la dolorosa scelta della via giudiziaria. Punto. Nonostante ciò il sindacato è pronto alla dietro front a condizione che il governo regionale proceda subito alla riclassificazione del personale regionale. E il Cobas Codir spiega I dipendenti della regione da oltre 20 anni non sono interessati ad alcuna progressione di carriera e possibilità di crescita professionale. Prima di bandire il concorso non è stata preventivamente verificata la possibilità di coprire i vuoti di organico anche tramite figure professionali già presenti nei propri ruoli. La legge prevede che le coperture dei vuoti di organico debbano essere effettuate su un duplice binario la progressione di carriera dei dipendenti con modalità e percentuali fissate per legge e l'assunzione di nuovo personale per la restante parte. Tali normative rispondono anche all'esigenza di contenere la spesa pubblica perché è evidente che una nuova assunzione comporta maggiori costi sia retributivi che formativi rispetto alla promozione di un dipendente in possesso della professionalità richiesta e già inserito nella macchina amministrativa. Inoltre la nostra rivendicata riclassificazione non richiede più soldi di quelli già stanziati dal governo regionale per il rinnovo contrattuale del comparto non dirigenziale della regione per il triennio 2019-2021. Sono infatti disponibili 44 milioni di euro di cui 27 sarebbero sufficienti per il rinnovo del contratto per il triennio mentre i restanti 17 potrebbero essere utilizzati per la riclassificazione. Punto. Dunque, avanti tutta innanzi al TAR e il sindacato conclude e prospetta ancora tempesta annunciando non escludiamo la mobilitazione di tutto il personale contro un'ineccettabile politica tendente esclusivamente a mortificare il personale in servizio.